Per Catanzaro è una giornata storica perché 12 giudici al tribunale, 6 pubblici ministeri nuovi non si erano mai visti. È stato il risultato di un anno di richieste pressanti, soprattutto sul ministro Orlando e sul capo di gabinetto Mirillo, che io voglio ringraziare pubblicamente oggi. È importante perché Catanzaro ne aveva proprio bisogno, è una grande iniezione di magistrati e sicuramente nel medio periodo vedremo i benefici. Infatti sono ragionati 6 pubblici ministeri più 12 giudici e da qui a pochi giorni giurerà anche il procuratore aggiunto Capomolla e stiamo aspettando di qui a pochi giorni i due sostituti che hanno 15 anni di servizio ciascuno, di peso, di grande esperienza che sono Paolo Sirleo che viene dall'ufficio ispettivo e Antonio De Bernardo che sicuramente conoscerete che viene dal procuratore istituzionale di Reggio Calabria. Tutta l'estate l'ho dedicata a costruire fisicamente le stanze a questi 6 nuovi colleghi più le segreterie. Il ministero ci ha inviato 12 studi nuovi, 12 computer nuovi, 12 stampanti multifunzioni, immaginacarte, tutto ciò che serve, che è servito, abbiamo pitturato, abbellito, costruito, messo le porte blindate, abbiamo tutto quello che serviva per questi nuovi magistrati in modo tale da accoglierli nel modo dignitoso e decoroso come serve alla loro funzione.